Le nuove direttive europee sull'economia circolare sono un'opportunità per l'ambiente e per le imprese. Quindi sarà compito del potere legislativo quello di favorire questo processo, ma soprattutto sarà compito delle imprese quello di avere il coraggio di rinnovarsi e poter strutturare la propria produzione in materia tale che si facciano meno rifiuti. Grazie